Così ci giochiamo anche un momento di musica non vocale ma strumentale Ce la fate voi a scendere come ha fatto Rosita? Avete bisogno di un accompagnatore? Le trombe! Le trombe, le trombe, sax, fisarmonica, clarino, va bene? Tante belle cose, ma le trombe, non la tromba, le trombe, perché sono due Sono due, Enrico Milli, un toscano di quelli proprio schietti, come si dice, i toscanacci E' un genovese di quelli proprio che le conta, le conta tutte le note Lui, insomma, abbiamo la chianina da una parte e il pesto dall'altra Quindi la bistecca chianina e il pesto Come sta la bistecca? Il pesto sulla chianina? No, no, la bistecca però Allora, quindi, ecco, siamo a posto, concentriamoci Omaggio alla musica di Ennio Morricone, i film western, le colonne sonore dei film Sirene! Sirene! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti